Musica Carissimi telespettatori bentornati al nostro appuntamento settimanale con Via Roma 39 dunque il comune di Mantova in primo piano e oggi qui in primo piano protagonista nei nostri studi l'assessore al bilancio e demanio dell'amministrazione cittadina Roberto Irpo, benvenuto assessore Grazie, benvenuto, buonasera a tutti Allora assessore, la sua una partita, due deleghe abbastanza impegnative soprattutto per questo periodo abbiamo visto tante questioni importanti soprattutto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane che l'hanno vista protagonista ecco io partirei proprio da quello che è uno dei piani più importanti che è legato anche a quelle che sono state poi le linee programmatiche legate al bilancio di previsione cioè il piano di dismissione del comune di Mantova quindi il comune di Mantova che cerca, spiegandolo proprio in termini molto semplici, di vendere delle proprie quote nelle aziende partecipate ecco perché è innanzitutto una decisione di questo genere? ma innanzitutto direi che il motivo principale è dato dalla necessità di rispettare il patto di stabilità il patto di stabilità che è un obbligo imposto dalla legge nazionale, è un obbligo che ci sta sempre più stretto che ci costringe a comprimere gli investimenti pur avendo le casse pieni di soldi oggi come oggi il comune di Mantova ha quasi 40 milioni di euro in cassa in cassa non li può spendere perché c'è questa regola che ripeto muove dalla necessità di controllare la spesa pubblica ma evidentemente sta sempre più stretta ai comuni soprattutto a quelli come Mantova che sono virtuosi e che devono superare un certo gap infrastrutturale che si è accumulato negli anni ebbene abbiamo l'obbligo purtroppo di contenere le spese di investimento se vogliamo investire dobbiamo creare nuove entrate e le nuove entrate evidentemente non possono che arrivare da alienazioni e dismissioni ecco appunto parlavamo delle dismissioni voi avete proprio messo un elenco con tutte le società in cui il comune è socio cioè in questo elenco insomma adesso state valutando cosa vendere mi pare che al primo punto ci sia la Valdaro SPA tra l'altro insomma è una società che sin dall'inizio del mandato è un po' al centro dei fuochi dell'amministrazione cittadina ecco mi pare che l'orientamento sia ci sono alcune forze politiche che addirittura vorrebbero che il comune uscisse vendesse tutte le proprie quote la Lega andrebbe in questo senso una posizione più cauta vediamo che cosa riusciamo a vendere ecco qual è l'obiettivo Assessore? ma io credo come sempre in politica sia necessario trovare il punto di equilibrio Valdaro è sicuramente una società strategica perché dal successo di Valdaro dipende lo sviluppo di un'intera area del comune e dipende anche la possibilità di portare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo all'intera città d'altra parte bisogna anche riconoscere che fino ad oggi probabilmente Valdaro ha svolto più il ruolo di una società immobiliare non particolarmente attenta a quelle che potevano invece essere le ricadute sullo sviluppo economico della città quindi forse si tratta di tornare in qualche modo alla ragione d'essere alla ragione d'esistere di questa società coinvolgendo perché no anche i privati ecco quindi voi mi pare il comune abbia un 62% il comune ha un 64, 63, quasi 64% e vorreste cercare di vendere una parte della vostra quota ai privati ecco le chiedo però una domanda più o meno la Valdaro S.P.A. adesso debiti per un 18 milioni di euro sceso qualcosa perché si è venduto l'area quella del parcheggio di Autobrand erano circa 20 milioni di euro però più o meno ha un patrimonio di 55-60 milioni di euro ecco come valutate dunque questa azienda perché questi 55-60 milioni di euro sono dei cittadini voi? Assolutamente sì ma io credo che l'ente pubblico debba in qualche modo diventare un maestro d'orchestra cioè noi abbiamo una finalità che è quella di sviluppare l'area se quest'area trova il suo sviluppo anche grazie all'accordo con soggetti privati che risultano essere piuttosto interessati all'ingresso nella società e a creare quindi una partnership con gli enti pubblici io credo che il Comune svolga appieno la sua funzione ovviamente si tratta di lavorare sulla parte diplomatica c'è un accordo che le forze di maggioranza hanno appena siglato hanno siglato a febbraio scorso l'assessore Benedini come noto è stato indicato dalle forze politiche e dal sindaco prima di tutto come il punto di riferimento di questo lavorio diplomatico non è in contrasto come qualcuno ha sostenuto pensare ad una dismissione della partecipazione del Comune di Mantua in Valdaro e questo lavoro che invece sta svolgendo egregiamente il collega Benedini ecco il timore forse assessore è quello che venga svenduta questa società e del resto insomma tra l'altro i nomi dei privati che hanno i terreni l'intorno a Mantua li conosciamo tutti non è questo il caso ovviamente non possiamo nemmeno dirlo però il timore è proprio questo che i privati che sono l'intorno se ne approfittino e entrino in questa società ovviamente con delle condizioni favorevoli che proprio alla fine che ci smenano sono i cittadini allora io credo che per come la vedo io ma credo che anche gli altri il collega Benedini e il sindaco e tutta la giunta stiano lavorando a qualcosa di più elevato cioè qui non si tratta solo di necessariamente rimanere nell'alveo mantovano ci si può anche guardare intorno abbiamo la necessità proprio perché sono soldi pubblici e proprio perché la società ha finalità di carattere pubblico legati allo sviluppo dell'area abbiamo la necessità di guardarci intorno e di guardare ad operatori economici qualificati che realmente possano e vogliano portare allo sviluppo dell'area alla fin fine se si esce dalla mantovanità ma si riesce comunque a creare le condizioni di sviluppo dell'area e di tutto il comparto io credo che poi alla fine il comune abbia svolto egregiamente quindi l'idea è di vendere le quote del comune l'idea è di guardarsi a 360 gradi anche perché le condizioni di mercato tutti sappiamo non sono fra le più favorevoli quindi se ci riducessimo a guardare solo in casa nostra probabilmente arriveremo veramente ad una svendita invece se allarghiamo il campo delle possibilità evidentemente cresce anche la possibilità di realizzare l'obiettivo Ecco Assessore lasciando a parte un attimo adesso la Valdaro e SPA poi voi avete fatto un elenco più o meno quasi in ordine alfabetico di tutte le altre società però avrete un'idea di quali società andare a dismettere? In realtà per adesso abbiamo un'idea su quali società non dovremmo dismettere e le abbiamo non a caso messe agli ultimi due posti dell'elenco Quindi Aster e TEA Aster perché è una società sulla quale stiamo ormai arrivando quasi a conclusione di un ITER che la porterà ad essere società in house Proprio ieri abbiamo esaminato in giunta una bozza di business plane della società tenendo conto di almeno alcune delle più importanti funzioni che questa società andrà a svolgere e vi è stato un consenso generale in giunta su questo punto TEA perché lo sappiamo è la multi utility del comune ha un ruolo fondamentale nel settore energetico dell'intera provincia e quindi è una società effettivamente strategica È il gioiello del comune È il gioiello ci dà degli utili importanti con i quali riusciamo a sostenere alcune parti della spesa sociale per esempio quindi è una società alla quale non intendiamo rinunciare Però anche qui avete previsto la possibilità di abbassare la quota Sì perché alla fine tutto sommato l'importante è tenere quel 66% che ci consente una maggioranza qualificata che ci consente di comunque indirizzare anche per esempio in vista di eventuali modifiche statutarie il voto in assemblea noi abbiamo il 73% io credo che se il comune dovesse ipoteticamente trovare l'acquirente per un 5% non succede nulla di grave però l'abbiamo ripeto messa E poi ci sono in mezzo tutte le altre Poi ci sono in mezzo alcune di queste partecipazioni sono onestamente partecipazioni che si possono anche tutto sommato considerare residuali quindi a quel punto se si trova a chi vendere nulla a questi C'è autobrennero certamente tra le più importanti beh su questo io invito a non avere dogmatismi una decina di anni fa il gruppo Benetton lanciò un'ipotesi di Opa su A22 ce lo ricordiamo e vi fu l'occasione alcuni comuni anche limitrofi per esempio il comune di Modena sfruttarono appieno questa possibilità facendo cassa poi quell'occasione sfumò però intanto questi comuni riuscirono a portare a casa molti soldi con i quali poi finanziarono opere pubbliche importanti allora io dico è chiaro che non è una partecipazione che si vende a cuor leggero però è anche vero che dobbiamo per esempio considerare che A22 sarà oggetto di una gara certo però non si rischia poi di perdere peso in quelle che possono essere le decisioni della A22 sì questa sicuramente è una delle eventualità che può accadere però abbiamo la necessità in questa situazione di finanza pubblica abbiamo la necessità di esplorare tutte le strade possibili per esempio una prima cosa da fare è quella di relazionarsi con gli altri soci mantovani quindi la provincia la camera di commercio affinché non ci sia l'impressione di uno sganciamento autonomo e che lascia gli altri magari col cerino in mano a rappresentare da soli Manto ecco quindi un ragionamento va fatto che già dobbiamo dire sono molto poche le quote di Manto assolutamente la nostra è una posizione di bandiera i 30 non si vada oltre qualche punto percentuale assolutamente quindi anche questo rappresenta chiaramente nella valutazione un elemento provendita perché se la rappresentanza è solo ed esclusivamente di bandiera allora qualcuno potrebbe dire che ci stiamo dentro a fare dall'altra parte ha ragione senz'altro lei a dire sì però è comunque una infrastruttura l'infrastruttura unica infrastruttura che passa da Manto e quindi tutto sommato se non è proprio indispensabile meglio starci che non più che altro potrebbero arrivare delle decisioni calate dall'alto di cui poi non si pone anche non si pone anche mediare al di là che appunto abbiamo appena detto che l'unico affare importante che ha concluso la Valdaro SPA è proprio quello della vendita dell'area per 4 milioni di euro circa dove verrà fatto il parcheggio dell'A22 altre società poi ad esempio siete soci del Catullo siamo soci del Catullo però personalmente ritengo che il Catullo sia veramente un'infrastruttura strategica strategica perché è fortemente legata al turismo allora se questa città deve e a mio avviso deve incentivare il suo peso turistico mettere il turismo e cultura in stretta connessione perché da qui arriva la grossa risposta alle possibilità di sviluppo della città è oltretutto uno sviluppo che non costa niente per esempio in termini ambientali quindi diciamo uno sviluppo nobile ecco se dobbiamo fare questo è chiaro che un rapporto stretto con il Catullo che a buona ragione possiamo definire l'aeroporto di Mantua e quindi da questo punto di vista forse diventa importante esserci per creare occasioni di partnership con l'aeroporto stesso e con tutto il mondo che ruota intorno quindi mi pare di capire vi focalizzate sulla Valdaro SPA state valutando autobrennero le quote diciamo nelle società minori e al momento invece Catullo non si tocca e TEA per ultima non ne abbiamo parlato del Catullo ma personalmente io qui esprimo anche un'opinione personale poi naturalmente come sempre le opinioni personali vanno mediate all'interno della Giunta Assessore il piano alle nazioni invece ne abbiamo parlato nelle scorse settimane anche nei nostri telegiornali per quest'anno voi avete fatto un piano di circa 12 milioni di euro avete già il sentore che qualcuno di questi progetti di queste voci che avete indicato possa andare a buon fine assolutamente sì abbiamo già avuto alcune manifestazioni di interesse che naturalmente in questa fase sono e non possono che essere solo manifestazioni di interesse perché naturalmente il piano di alienazione diventerà operativo solo quando il comune pubblicherà i bandi certo il piano di alienazione è uno strumento estremamente flessibile che può essere modificato può essere cambiato a seconda anche dei sentori del mercato però sugli elenchi che sono usciti che abbiamo pubblicato in allegato alle delibere e quant'altro abbiamo già avuto alcune manifestazioni di interesse di una posso tranquillamente parlare perché ne ho già parlato anche in commissione e in consiglio comunale l'altra sera per esempio il teatro minimo che è stato uno dei beni sui quali si è registrato un certo movimento d'opinione contrario alla vendita nonostante si sia detto chiaramente che su questo immobile noi manterremo il vincolo d'uso attuale quindi non è nostra intenzione assolutamente impoverire l'offerta culturale della città beh su questo immobile noi abbiamo già avuto due manifestazioni di interesse ecco poi noi avevamo parlato già della bocciofia che addirittura è la stessa arci quindi insomma avete un'idea più o meno di questi 12 milioni al momento quanti potrebbero concretizzarsi poi è chiaro che quando si fa un piano di alienazione di questa portata non si può pensare soprattutto in una situazione del mercato generale di avere la bacchetta magica l'auspicio è che ci sia qualche piccola ripresa ma credo anche che dipenderà molto dalla qualità dei beni che vengono messi sul mercato voglio dire se per esempio il comune di Mantova riesce a portare a termine il progetto della cittadella dei servizi cioè quel progetto che mira a riunificare in un'unica sede operativa tutti gli uffici del comune fatti salvi solo quelli di rappresentanza che stanno in via Roma e resteranno in via Roma beh è chiaro che a quel punto se io metto sul mercato un immobile come Palazzo Soardi è chiaro che anche in un momento di crisi del mercato stiamo parlando di un pezzo pregiato dove lo ribadisco sarà esclusa la sala degli stemmi certo ce l'ha detto ce l'ha detto il sindaco ecco mi pare assessore che l'anno scorso abbiate recuperato un paio di milioni di euro si per esempio l'anno scorso siamo riusciti a vendere un paio di milioni di euro di immobili che tra l'altro erano in attesa di essere venduti da tempo un esempio su tutti il complesso dei garage di Via L'Indipendenza che era lì da almeno due amministrazioni che tentavano di venderli abbiamo credo realizzato anche un buon lavoro nei confronti dell'opinione pubblica dei residenti che ne usufruivano perché abbiamo cercato fino all'ultimo di metterli nelle condizioni di rendersi loro stessi acquirenti di questi garage e poi la cosa è sfumata perché l'interesse delle persone alla fine non si è manifestato e a quel punto abbiamo regolarmente fatto la gara a blocco unico ed è stato poi effettivamente acquistato insomma ecco assessore abbiamo pochi minuti ancora a disposizione e non possiamo non parlare del Limo perché ovviamente i mantovani sono interessati e anche preoccupati nel capire quello che accadrà sono giustamente preoccupati e siamo preoccupati anche noi perché l'Imu in realtà è una questione nella quale il comune di Mantova come tanti altri comuni rischiano in realtà di perdere risorse perché ovviamente l'Imu si porta dietro il taglio dei trasferimenti statali è vero che il comune avrà l'Imu prima casa che fino all'anno scorso non aveva ma è anche vero che lo Stato ci taglierà circa 3 milioni di euro qual è l'idea dell'ente? Innanzitutto deve concludersi l'iter legislativo perché sono pendenti alcuni emendamenti in Parlamento che potrebbero pesantemente influire sul risultato sugli importi complessivi uno su tutto per il comune di Mantova gli immobili di carattere storico e culturale capite bene che se passasse questo emendamento al comune di Mantova avrebbe a mancare un introito piuttosto la mia idea personale che credo sia condivisa da tutta la giunta è quella di lavorare per quanto è possibile sul contenimento e sulla razionalizzazione delle spese correnti perché più conteniamo le spese più le razionalizziamo meno dobbiamo agire sulla leva fiscale dopodiché se sarà indispensabile lavorare come peraltro hanno già fatto tutti gli enti locali la maggior parte degli enti locali anche importanti hanno già fatto se dovremo toccare la leva fiscale cercheremo chiaramente di lavorare più sulla seconda casa rispetto alla prima casa questo è evidente e cercheremo anche ma avete già un'idea però di come lavorerete ad esempio sulla prima casa guardi personalmente ritengo che sia opportuno mantenere le aliquote previste dalla legge dello Stato cioè il 4 per 1000 non alzarla e non agevolarla nel senso che non possiamo permetterci in questa fase di dare delle facili agevolazioni che tutti noi vorremmo dare e che poi però possono creare degli scompensi negli equilibri preferisco fare un anno personalmente preferisco un anno di prudenza quindi per esempio tutte le aliquote dello Stato confermate eventualmente studiare qualche piccola agevolazione per alcune categorie di immobili e poi eventualmente l'anno prossimo possiamo ragionare in base agli introiti che abbiamo possiamo ragionare in modo anche più concreto su cosa poter agevolare ho capito abbiamo pochi istanti ancora a disposizione Assessore noi abbiamo dato una notizia Palazzo del Podestà il recupero è a rischio anche in questo caso per il patto di stabilità perché praticamente dovreste imputare circa 13 milioni di euro tutto sul 2012 e questo per il comune di Mantua è impossibile il sindaco è andato al ministero per chiedere una deroga però noi ragionando da cittadini diciamo è difficile come può essere che diano una deroga a Mantua e non al resto d'Italia allora innanzitutto il problema è proprio nei termini in cui l'avete posto voi quindi l'allarme è corretto cioè noi abbiamo per rispettare le norme di contabilità abbiamo l'obbligo di impegnare l'intera cifra i 13 milioni pur avendo la certezza che il lavoro si svolgerà su tre anni e pur avendo la certezza che i pagamenti del 2012 saranno non più di un paio di milioni di euro e già questo il sindaco si è correttamente mosso con la segreteria del ministro degli interni che ha in gestione la partita del patto di stabilità in realtà il problema è sotto il focus del ministero in realtà non è solo fortunatamente non è solo un problema del comune di Mantova e quindi in realtà se si arriverà a uno stralcio della posizione del palazzo del podestà non sarà solo per palazzo del podestà ma per altre situazioni analoghe che sono presenti in altri comuni italiani quindi si sta lavorando a una soluzione per ipotesi di questo tipo quindi siete fiduciosi che possa arrivare a una sorta di deriva siamo moderatamente moderatamente fiduciosi e siamo in attesa di poter andare a Roma appena ci chiameranno per poter approfondire questa eventualità che sarebbe ovviamente rimarrebbe al palo anche se no ci creerebbe molti problemi effettivamente bene assessore il nostro tempo è scaduto io la ringrazio per questi approfondimenti veramente importanti mi raccomando l'IMU assolutamente sia una raccomandazione che trasmettono tutti i cittadini a Mantovani allora cari telespettatori grazie per averci seguito anche questa sera ringrazio ancora l'assessore grazie a voi l'Irpo appuntamento con via Roma 39 a tra 7 giorni sempre alla stessa ora arrivederci buonasera grazie a tutti